Se una persona ti ama davvero al di là di quello che dice oppure ti sta prendendo in giro oppure ancora peggio vuole sfruttarti questo vale sia per gli uomini che per le donne ovviamente non è che c'è un passaggio privilegiato per gli uomini o per le donne perché ci sono anche uomini che sono talmente fessi che fanno i cavalieri serventi che passano tempo a scaruzzare donne avanti e indietro a offrire cene e poi queste neanche gliela smollano insomma ecco questo è un punto da tenere presente è un punto fondamentale per ottenere dei risultati quindi è molto importante imparare a leggere nei segnali non verbali di questa persona perché attraverso la lettura del non verbale tu riesci a capire tutto di una persona riesci a capire i segnali di resistenza riesci a capire eventuali segnali di rabbia riesci a capire eventuali segnali di orgoglio riesci a capire molto sulla personalità riesci a capire se una persona è davvero innamorata di te oppure se semplicemente si annoia perché questa è un'altra cosa fondamentale anche qua molti uomini stanno con donne che sono annoiate o molte donne stanno con uomini che sono annoiati che non se ne rendono neanche conto ci sono dei segnali oppure delle persone che nascondono qualcosa ad esempio se stai con un uomo che cammina incrociando le braccia e questo è comunque un segnale che sta nascondendo qualcosa soprattutto se appena ti vedi inizia a incrociare quando parla magari mette la mano davanti alla bocca ti sta nascondendo qualcosa è molto probabile in questo caso che se tu ti tocchi sulla testa sentirai delle protuberanze che inizieranno a crescere inizieranno a manifestarsi e queste sono le tue corna che iniziano a svilupparsi inizia a sentirle però è ovvio che se tu non noti questo non riuscirai a cogliere niente d'altra parte ci sono dei segnali invece che indicano un coinvolgimento se questa persona quando ti parla tende a mettersi la penna in bocca magari la tua segretaria o chi per essa non lo so e beh vuol dire che è molto coinvolta da questo punto di vista soprattutto da un punto di vista affettivo sentimentale quindi questo è molto importante e poi ci sono anche delle indicazioni diciamo invece che delle persone si stanno annoiando con te non vedono l'ora di andarsene via se ad esempio sei con un uomo che continuamente quando è con te guarda l'orologio anche di sfuggita così è perché non vede l'ora di levarsi dalle palle perché tu lo stai annoiando tu lo stai non gli stai dando nulla sei una donna noiosa per cui lui annoiandosi sbircia sull'orologio ogni tanto ecco questi sono tutti segnali che sicuramente non non sono diciamo segnali di interesse alcuni segnali diciamo e dimostrano anche che sono disinteressati a te che ad esempio un altro segnale che un uomo è fortemente disinteressato a te che di fatto non gliene frega assolutamente niente che pensa che sei soltanto una sciattona che sei soltanto una così da tenersi a passano quando vuole svuotarsi le palline da tennis è se quando ti vede sta appoggiato la testa non sta su da sola si appoggia si appoggi in questo modo ecco uno che tende a appoggiarsi in questo modo è veramente uno che non ne può più di te non ne può veramente più si sta rompendo i maroni oppure se sta appoggiato ancora peggio in questa posizione vuol dire che proprio li stai come dire su un testicolo non ti sopporta quindi questi sono tutti segni che diciamo non gli interessa assolutamente niente di te e se invece da un punto di vista logico ti dice che sono diciamo come dire interessati ti stanno spudoratamente smentendo altri segnali diciamo che indicano che non ne possono più di te e quando guardandoti tu arrivi e si spolverano in questo modo fanno questo gesto in realtà non hanno niente non hanno polvere non possono farlo sui pantaloni sulla camicia sulla giacca si spolverano e ti vedono e fanno così perché proprio vorrebbero buttarti fuori vorrebbero levarti dalle palle e quindi se tu noti queste cose devi tenere presente che a questi uomini o a queste donne di te non gliene frega assolutamente niente sei praticamente una nullità non gli interessi per niente e se tu credi invece che loro siano coinvolti con te e purtroppo ti prenderai l'ucciole per lanterne perché poi magari da un punto di vista logico cioè a parole fondamentalmente magari possono anche dirti ti amo ti adoro salsicce pomodoro ma lo fanno o per portarti a giovedì sera al parcheggio del cimitero oppure lo fanno semplicemente per passare il tempo cioè ti vedono come una passatempo fondamentalmente e niente di più e quindi sono tutti segnali che ti fanno capire che non ce n'è insomma ecco quindi questo devi tenerlo presente perché oppure lo strofinamento del naso questo è un segnale proprio che non non ne può più di te insomma quindi bisogna fare attenzione perché se noti questi segnali sono sicuramente delle bandierine rosse che devi prendere in considerazione perché quello che viene detto a livello logico e razionale conta pochissimo è ovvio che non è che devi saltare subito alle conclusioni però diciamo cerca di renderti conto che le cose potrebbero essere avvenire in un certo modo piuttosto che un altro se invece la persona tende un po' a rispecchiarti tende a allora potrebbe darsi che o uso una strategia o non uso una strategia comunque c'è una connessione c'è un feeling c'è un'unione anche profonda ecco quindi tieni presente anche tutti i gesti di nervosismo che indicano che una persona si vuole levare dalle palle quando sta con te ad esempio chi tamburella con le dita chi batte il piede come fosse un ritmo una batteria beh lo fa perché non è interessato a te sono tutte bandierine rosse purtroppo bisogna prendere atto della realtà insomma questi segnali sono fondamentali per capire se una persona è coinvolta o meno perché altrimenti rischi veramente di essere sfruttata inoltre devi imparare anche a leggere tra virgolette il modo in cui le persone si comportano attraverso i loro corpi attraverso la postura attraverso il linguaggio del corpo perché l'obiettivo è quello comunque di costruire una relazione con una persona ed eventualmente lasciare abbandonare subito le persone che non ti danno quello che tu vuoi questo è molto importante scoprirlo precocemente prima che tu ti sei già innamorato ti sei già coinvolto perché sennò poi dopo inizia a dire ma io lo amo io lo amo e allora se tu lo ami te lo prenderai in quel posto perché devi imparare da subito a capire se questa persona si sta coinvolgendo o meno perché se tu lo capisci da subito puoi variare anche i tuoi comportamenti quindi varianti comportamenti magari e calibrandoti sui segnali non verbali di ritorno potrai ottenere saluto a rosanna potrai ottenere dei risultati importanti dei risultati positivi quindi questo è un punto fondamentale cerca di osservare il linguaggio del corpo concentrandoti sulla testa sulle braccia sul petto sulle gambe sui piedi cercando di capire un attimino molto rapidamente da subito se questa persona è coinvolta o meno e che cosa lo coinvolge o no perché potresti anche cogliere quelle che sono diciamo le sue esigenze emotive ad esempio anche dalla stretta di mano la stretta di mano ti può dire molto su che esigenze emotive ha quella persona ad esempio una persona che stringe la mano in modo attenaglia viene detto in modo egocentrico in questo modo è una persona che stringendo attenaglia in questo modo ti sta dicendo che è una persona estremamente egocentrica e quindi tu come dire hai le chiavi le chiavi per sedurla basta una stretta di mano e acquisisci subito le chiavi per sedurla perché se appunto capisci che è estremamente egocentrica quello che puoi fare è prima la metti sul piedistallo perché le persone egocentriche gongolano quando sono messe sul piedistallo ma poi la butti giù dal piedistallo perché è soltanto quando la butterai giù dal piedistallo che riuscirai a farla innamorare perché non tollera una persona egocentrica di non essere più sul piedistallo e allora tu avrai un potere perché questa persona piuttosto di essere rimessa sul piedistallo farà di tutto farà di tutto per cercarti, per volerti, per desiderarti e quindi tu sfrutterai proprio il suo egocentrismo a tuo vantaggio perché noi dobbiamo cercare di sfruttare il più possibile a nostro vantaggio quelli che sono i turbamenti delle altre persone se invece una persona ad esempio ti dà la mano in modo dritta quasi come se fosse un pesce lesso, un pesce morto diciamo così beh queste sono persone fredde, algide sono persone penalizzanti sono persone anche molto tartassanti quindi il suggerimento che ti do è levatela dai coglioni oppure, come dire, ne pagherai poi le conseguenze insomma, quindi anche dalla setta di mano possiamo capire molte cose da un'altra persona persone che invece ti stendono la mano in modo prolungato non vogliono terminare saluto ti mettono una mano sopra l'altra sono persone che possono essere dominanti ma comunque protettive e quindi questo è, insomma, sono ad esempio tutte indicazioni che ci fanno capire che è quello che puoi fare puoi capire dal linguaggio del corpo ad esempio il linguaggio del corpo di potere se una persona è dominante o non è dominante in modo tale che tu possa poi giocare è ovvio che una persona dominante dovrai farti dominare per un po' ma poi dovrai smettere di farti dominare e cercare di buttarglielo in quel posto ecco, queste sono tutte strategie che tu puoi utilizzare per ottenere risultati importanti nella seduzione non cadere nel gioco delle altre persone ma sei tu che devi imparare a condurre il gioco e puoi anche cogliere il linguaggio del corpo romantico che ha una persona che è innamorata di te se ad esempio una persona tende a girare sempre il piede verso di te ad esempio anche quando non ha il busso girato da un'altra parte beh, è un segnale di forte coinvolgimento romantico quando ad esempio in un locale una persona ti guarda quando tu non lo guardi qua devi sfruttare la vista laterale beh, è un altro segnale molto forte che c'è un romanticismo in atto il linguaggio del corpo romantico è fondamentale e puoi utilizzarlo ti dà indicazioni non soltanto durante la fase di seduzione ma anche durante la fase di, diciamo, di relazione vera e propria questi sono punti fondamentali alcune persone usano meno enfasi, diciamo sono molto più bloccate ma altre, diciamo, altre meno e questo è interessante, no? anche capire se sei maschio, ad esempio, quali donne o se sei donna quali donne tendono ad essere sottomesse ad esempio le donne asiatiche per cultura tendono ad essere più sottomesse delle altre donne quindi il linguaggio del corpo sottomesso è un linguaggio del corpo più passivo e è interessante vedere, ad esempio, come gli animali ci fanno capire anche qual è il linguaggio del corpo sottomesso ad esempio è interessante il gioco tra il leone e la leonessa perché la leonessa poi si sottomette al leone e questo, come dire si rannicchia davanti al leone esibendo i punti, diciamo di, come possiamo dire vulnerabili e permette al leone di prenderla insomma e questo mutatis mutandis è un linguaggio sottomesso che hanno anche molte donne asiatiche appunto, ad esempio rannicchiarsi in posizione fetale mostrare un linguaggio del corpo chiuso beh, se una persona ti tocca ad esempio è un segnale di gradimento ma se un uomo ti tocca ad esempio sulla schiena per dire significa solo che ti vuole trombare e basta perché la schiena rappresenta un punto di vista diciamo una zona erogena e un uomo che parlando ti tocca la schiena ti dà semplicemente un segnale che ti vuole portare a letto ma non è coinvolto da un punto di vista emozionale non è coinvolto da un punto di vista diciamo del voler ad esempio una relazione specifica questo puoi prenderne atto diciamo quando interagisci con un uomo se sei una donna e questo parlando ad esempio ti tocca la schiena magari si fiora la schiena in questo modo beh significa che l'interesse è sessuale vuole dominarti vuole possederti ma soltanto da un punto di vista fisico nulla più questi sono tutti segnali diciamo che una persona può leggere nel linguaggio del corpo per capire ovviamente decifrare il linguaggio del corpo è importante perché ci fa capire molte cose ad esempio una donna che si gira i capelli in questo modo sarà una donna gelosa possessiva che ha esigenza di morboso possesso desiderio di morboso possesso quindi questa è un'altra cosa da tenere presente mordicchiamente delle labbra invece sono tutti segnali che indicano che c'è un coinvolgimento però anche qua è molto importante capire se mordicchia il labbro superiore ha esigenze sessuali si mordicchia il labbro inferiore ha esigenze affettive ecco questi metodi ti permetteranno di capire molto rapidamente qual è il meccanismo diciamo di coinvolgimento di questa persona e quindi capire subito rapidamente se una persona ti sfrutta oppure no metti un like se il video ti è piaciuto e condividilo con i tuoi amici iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e ovviamente seguimi su tutti i miei social e ti ricordo che se vuoi fare una piccola donazione al canale basta che vai sul tastino donazioni super grazie se vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti basta che vai nella home page tastino abbono